Gli ha puntato la calibro 9 in faccia e poi ha iniziato a esplodere colpi su colpi, scaricando quasi completamente il caricatore della sua beretta. 11 colpi su 13 nei confronti dell'uomo che si trovava in auto in compagnia della sua ex. Un legame, quello con la sua ex convivente, una donna di 45 anni di origini russe, oltre che affittivo anche di carattere lavorativo. Infatti i due gestiscono alcuni nightclub della zona. Il 71enne ha aspettato che la donna uscisse dall'auto dell'uomo per entrare nella sua BMW parcheggiata poco distante. E poi, senza pensarci su due volte, probabilmente accecato dalla gelosia, affronta a viso aperto il rivale, dopo avergli bloccato l'uscita del parcheggio. E inizia una vera e propria girandola di fuoco. Solo la prontezza di riflessi e l'istinto di sopravvivenza hanno permesso all'aggredito, un 38enne italiano, facendosi scudo della propria auto, che poi risulterà colpita dai proiettili in più parti, di rimanere in colume. La donna esce dalla sua auto e, riconosciuto il suo ex, ha tentato di dissuaderlo dal suo proposito omicida, ma in vano. Allora ingrana la retromarcia e scappa, tamponando violentemente l'auto del 71enne. Fine della sparatoria e l'uomo si dà alla fuga. Sarà lo stesso 38enne, anche se in preda allo shock, a chiamare il 113 e a far partire la caccia all'uomo degli uomini della questura e della mobile, che costringeranno l'aggressore a consegnarsi direttamente al carcere di Villa Fastigi, dove si trova tuttora. Perquisita dagli inquirenti la sua auto, dove è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale ed un secondo caricatore della beretta, oltre che alla sua abitazione. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio e denunciato per porto abusivo di arma comune da sparo e porto di oggetti atti ad offendere. Ha esplosto 11 colpi d'arma da fuoco, questo in pieno centro, in zona quasi centrale di Fano, in un parcheggio appena fuori le mura del centro cittadino, in piena notte. L'intervento comunque nostro è stato veramente immediato. L'uomo si è poi allontanato dopo aver esplosito questi 11 colpi che fortunatamente non hanno colpito l'uomo, anche per la pronta reazione di quest'ultimo. Poi l'uomo si è diretto verso Pesaro, qui è stato intercettato anche dalle nostre pattuglie, comunque si era ricato al carcere di Villa Fastigi dove voleva costituirsi. E' scattato un piano tipico che si pone in essere quando avvengono reati di questo genere, c'è un tentativo di omicidio, l'esplosione di colpi d'arma da fuoco e quindi congiuntamente gli agenti della squadra mobile e del commissario di Fano hanno posto in essere una vera e propria caccia all'uomo che ha consentito di stringere il cerchio intorno a questo individuo, tanto che lo stesso individuo ha ritenuto opportuno consegnarsi direttamente al carcere di Villa Fastigi onde evitare ulteriori conseguenze.